La bella, brava, sexy e simpatica Antonella Clerici, a distanza di 30 anni dalla morte del grande Enzo Tortora, si prepara a portare direttamente in televisione il magnifico programma Portobello, un programma che non può non essere considerato come il gioiello per eccellenza della TV generalista, ma non solo italiana. Tortora vi ricordo che lo presentò questo programma dal 77 all'83, quando ovviamente fu messo in una condizione non proprio delle migliori, ma non intendo entrare nel merito poi però purtroppo nell'88, se non vado errato, morì purtroppo per lui. Ma adesso vedremo in Rai questo programma Portobello che verrà, tra virgolette, a riesumato, verrà riportato in grande stile da una eccellente conduttrice, quale è la bella, sexy e simpatica Antonella Clerici, che sono convinto porterà in TV un programma appetibile, piacevole, ma soprattutto garbato nei contenuti che andrà a proporre. Qualcuno storce il naso, qualcun altro è contento come me, medesimo, che sono felicissimo del fatto che finalmente ritorna a Portobello in TV, ma sappiate che il programma di punta credo che sarà proprio questo, credo che apparterrà proprio alla brava e simpatica Antonella Clerici e quindi faccio i miei migliori auguri di buon lavoro ad Antonellina, faccio ovviamente i miei più sentiti, i miei più sentiti e le mie più sentite a stima nei confronti di la Clerici e Antonella e spero che andrà tutto per il meglio. Un saluto, in bocca al lupo cara Antonella e al prossimo video.